Abbiamo fatto di questo Ateneo un centro d'eccellenza, sono orgoglioso del lavoro svolto. Lo ha dichiarato il rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro Aldo Quattrone, intervenendo alla cerimonia di combiato dalla guida dell'Ateneo. Spero, ha aggiunto Quattrone, che sia apprezzato lo sforzo di sei anni per portare l'Università di Catanzaro su livelli sempre più alti. Noi davvero l'abbiamo conosciuta nel corso degli anni tra difficoltà ma anche successi. Lascia un'Università comunque tra le prime in Italia, lo possiamo dire? Sì, lascia un'Università con i conti in ordine, un'Università di eccellenza. Abbiamo cercato di dare una risposta ai nostri giovani, ai professori, abbiamo cercato di alzare il livello della ricerca e pensiamo che anche dal punto di vista dell'edilizia è un'Università che si presenta benissimo, un'eccellenza del mezzogiorno. C'è qualcosa di incompiuto? Potevamo ancora completare il campus per la facoltà di farmacia, abbiamo già iniziato, abbiamo dato avvio all'ultimo parcheggio per i nostri studenti, a qualche opera per la farmacia e il nuovo rettore completerà. Quattrone ha poi ricordato con particolare commozione il primo rettore della Tenocca Tanzarese, il professore Salvatore Venuta, un grande amico che, a sostenuto, ha realizzato un nonsogno nonostante le perplessità anche di molti di noi, consegnando una targa a uno dei suoi allievi più illustri, il professore Francesco Tassoni. Il nuovo rettore De Sarro si è detto pronto a raccogliere un'eredità bella ma pesante. Perché mantenerla non sarà facile, vuol dire fare qualche sacrificio, forse inferiore a quelli che ha fatto lui per portarci fino a questi punti, ma sicuramente bisogna essere molto accorti. Alla cerimonia di commiato di Quattrone hanno partecipato moltissime autorità civili e religiose, tra cui l'arcivescovo metropolite di Catanzaro Squillace, presidente della conferenza episcopale Calabra, Monsignor Vincenzo Bertolone, il vicepresidente della regione Antonio Viscomi, il presidente della provincia di Catanzaro, Zobruno, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e anche i rettori delle altre università calabresi di Cosenza, Crisci e di Reggio Catanosso. Grazie.